Su questo fatto c'è assolutamente da indagare, cari amici, perché qui parliamo di Putin, sì, è vero, ma attenzione, Putin non Putin, nel senso che sta adottando dei sosia, questa è la domanda che ci poniamo, ma si evidenzia già in questa immagine che avete visto in copertina e che vedremo meglio tra poco, si vanno ad evidenziare dei particolari che potrebbero farci capire che invece assolutamente lui non è. Sui capelli non potremo fare tanto affidamento, perché voi li sapete crescono molto in fretta, quindi no, però su alcune particolarità del mento, come in questo caso, beh, quelle non è possibile cambiarle. Quindi, Vladimir Putin, cerchiamo di capire quanti Vladimir Putin ci sono, perché la tedesca Bild non è la prima e non sarà l'unica testata giornalistica ad avanzare dubbi sull'autenticità del Putin, che abbiamo visto sicuramente in tv, nel web o sui giornali, a Mariupol e a sud di Kherson, nell'Ucraina occupata. Quindi lì è dove è stato visto il più delle volte. Zone di guerra, si sa. Oppure in un incontro ravvicinato con gli studenti a Mosca, nonostante la sua paura del contagio da Covid e l'abitudine di far attendere anche settimane intere, addirittura prima di stringere la mano a un visitatore, testato se non quarantenato. La Bill pubblica le immagini che mostrerebbero le differenze tra Putin e i suoi doppi. Il capo dei servizi segreti ucraini Kirill Budanov, intervistato dal britannico Daily Mail, ne ha contati tre che, dice, si sono sottoposti a interventi di chirurgia plastica per assomigliare all'originale. Addirittura, vi sarebbero specialisti dell'intelligence a Kiev in grado di riconoscerli ormai a prima vista. I sosia verrebbero usati raramente, ma in situazioni di rischio come una guerra e possibili attentati il loro impiego avrebbe una maggiore frequenza. E una maggiore probabilità che il trucco venga smascherato. La Bill cita parole degli ucraini, se c'è Putin, raramente è Putin. E aggiunge, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dovuto smentire, Putin è reale. Lo stesso Zelensky non perde occasione di commentare. Neanche io riesco a capire se è vivo. I sosia diventerebbero importantissimi proprio in caso di morte, per nasconderla settimane oppure mesi. Ma su cosa si basano le illazioni dei media più sospettosi? Anzitutto sul confronto tra un'immagine di Putin in un evento istituzionale a Mosca il 21 febbraio 2023, e altre due invece a Sebastopoli e Mariupol, tra il 18 e il 19 marzo. Le posta su Twitter Anton Gereschenko, consigliere del Ministero dell'Interno ucraino, rilanciato da canali Telegram dell'opposizione russa come Vatneo Boloto. Qual è quello vero? Chiede Gereschenko. Altre foto controverse ritraggono lo zar per strada a Mariupol con un gruppo di residenti filorussi e a Mosca con gli universitari dell'Ateneo di Lomonosov il 25 gennaio. Fotogrammi che sembrano mostrare diversità e dettagli rivelatori. Mento e sottogola, la forma e l'attacco delle orecchie, secondo Bodanov, sono come impronte digitali, il naso allungato o compatto, il taglio dei capelli, i dati biometrici che indicano la distanza e la posizione relativa di orecchie, naso e occhi, il disegno delle rughe e l'orientamento delle sopracciglia. Alcuni siti di fact-checking si sono applicati alle rivelazioni, cospirazioniste, e in qualche caso hanno spiegato l'apparente incongruità. Per esempio, il fotogramma presentato come un Putin dannata, febbraio 2023, appare identico in una notizia della BBC del 5 febbraio 2020, tre anni prima, alla presentazione delle credenziali di 23 ambasciatori a Mosca. Colpisce il mento sfuggente della seconda foto rispetto alla terza, che dovrebbero avere una differenza di un giorno. In realtà, sarebbero entrambe relative al video della visita di Putin a Mariupol, in cui le sequenze successive dimostrerebbero come il mento sfuggente fosse dovuto solo a una smorfia di Putin che ne stravolge la fisionomia. Eppure, il giallo rimane, se stridono le immagini di Putin lontanissimo dai collaboratori più stretti al tavolo lungo delle riunioni e quelle con semplici residenti di Mariupol. Del resto, che Putin abbia sosia lo ha detto l'ex deputato della Duma, Mark Fagin. E il doppio appartiene alla tradizione sovietica. Di Stalin conosciamo il nome di un sosia, Felix Dadayev, che ne ha parlato pubblicamente nel 2008 sostenendo che oltre a lui, Stalin ne aveva altri tre. E la storia riporta i nomi di almeno un paio di falsi Hitler. Gustav Weller gli assomigliava come una goccia d'acqua, al punto di essere ucciso al suo posto dai sovietici. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.